Con i tempi che corrono, pagare regolarmente l'affitto di casa è diventato per molti sempre più difficile e nel capologo campano gli sfratti per morosità solo nell'ultimo anno sono aumentati in maniera considerevole. In aiuto delle fasce deboli, l'amministrazione cittadina ha disposto la pubblicazione di un bando per la concessione di contributi integrativi ai canoni di locazione. L'iniziativa è destinata alle famiglie indigenti, in favore delle quali sono stati stanziati 3 milioni e 136 mila euro. I cittadini interessati al contributo e in possesso di un contratto di affitto, afferma l'assessore al patrimonio Bernardino Tuccillo, potranno scaricare il bando e il modello di domanda sul sito web del Comune da venerdì 27 gennaio, oppure ritirarli gratuitamente presso il servizio assegnazione immobili in piazza Cavour. Per poterne usufruire, oltre a presentare regolare documentazione, bisogna essere residenti nel Comune, possedere un contratto di locazione legalmente registrato ed essere in regola con il pagamento dei tributi locali.